benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di la grande storia d'amore che belen stava vivendo con il nuovo fidanzato angelo galvano pare proprio essere giunta al termine la notizia della loro rottura arriva direttamente dal noto settimanale gente che è riuscito a fotografare angelo mentre attendeva con pazienza sotto casa di belen proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della showgirl cosa c'è di strano in questo da quanto riportato l'uomo avrebbe aspettato in vano nel parcheggio senza ricevere alcuna risposta e pare anche che non fosse nemmeno la prima volta mentre belen festeggiava il suo compleanno accanto alle persone più care angelo aspettava solo soletto a pochi metri infatti nelle foto postate sui social da belen nel suo giorno lui non compare mai da ciò che hanno potuto capire i fotografi presenti angelo sarebbe andato sotto casa di belen in scooter per diversi giorni senza per ottenere nulla di fatto negli scatti di gente si vede addirittura l'uomo che riesce a intercettare proprio l'amico in comune che le aveva presentati ovvero matilde bruzzone moglie di billy berlusconi anche quest'ultima però lo saluta frettolosamente senza concedere nulla di più a quel punto galvano rimette il casco riparte sconsolato in sella al suo scooter a pensarsi un po su nei giorni scorsi c'erano già stati in realtà alcuni indizi che potevano lasciar pensare un'imminente rottura tra angelo e belen il noto settimanale chi aveva infatti paparazzato stefano dei martino mentre aiutava la scioglierla a fare il trasloco nel nuovo appartamento tra scatolone in grosse valigie ma perché chiamare l'ex marito si è a disposizione un nuovo fidanzato forzuto e prestante forse quel fidanzato non c'era già più o comunque le cose non stavano andando le migliori dei modi ad ogni modo pare proprio che questa volta belen non sia riuscita a incappare nel suo principio azzurro e la domanda che ora sorge spontanea e lo troverà mai che ne pensate riguardo scrivetemelo giù nei commenti grazie a tutti Grazie a tutti.